Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi ho preparato un video abbastanza speciale ovvero un Q&A, domande e risposte che mi avete mandato su Instagram qualche settimana fa scusatemi ci ho messo un bel po' a fare questo video perché siamo diventati 7000 quindi siamo tantissimi e ci stava a fare un po' di aggiornamento su alcune domande che avete in servo per me sono tante quindi andrò abbastanza veloce e insomma visto che ne abbiamo però volevo davvero ritagliarmi anche un minuto per ringraziarvi nuovamente perché io sono sempre stupita e meravigliata del fatto che seguiate i miei pipponi, vi ringrazio davvero tantissimo e soprattutto vi ringrazio perché davvero ogni volta arrivano sul canale, su Instagram eccetera persone davvero meravigliose con cui io chiacchiero quotidianamente mi fa un sacco piacere quindi davvero sono molto contenta non è una questione di numeri, è una questione anche perché cioè siamo pochi comunque insomma stiamo parlando del micro Insta ma comunque siete persone veramente sempre interessante e interessanti e quindi è bellissimo insomma, sono molto orgogliosa della mia community perché di community si tratta effettivamente comunque bando alle ciance direi di partire perché le domande sono tante è il video dove vi fate un po' gli affaracci miei e mi chiedete anche un sacco di curiosità e quindi io inizierei vado in ordine un po' sparso eh allora partiamo dall'inizio, la prima che mi scrive è Erika di Diary of a Bibliophile che saluto spero che l'ora che torni dalla Francia è un po' arrivata e senti ma non è che puoi ricomprare il mio libro e fare una recensione insomma Erika mi sfotte per tutte le mail degli autori emergenti che mi arrivano va bene me la pagherai un giorno perché arriveranno anche a te prima o poi e invece vado avanti, Jock Joe mi fa due domande la prima è come fai a leggere così tanto quando leggi? allora io non credo di leggere tanto, non mi sento di leggere tanto a volte leggo tantissimo, a volte non leggo nulla ci sono mesi dove leggo due libri ed è già un miracolo altri dove sono molto ispirata, ho molto tempo libero diciamo che sono una persona abbastanza organizzata per queste cose di solito preferisco leggere la mattina tanto che io mi sveglio un'ora prima rispetto a quello che è il tempo che effettivamente mi serve per prepararmi io ci metto dieci minuti sono una persona proprio che odia metterci ora a prepararsi io in quarto d'ora sono a posto però ad esempio mi ritaglio sempre quei 45 minuti in più per poter leggere in tranquillità perché la mattina sono ancora rilassata è un modo anche per iniziare la giornata in maniera molto rilassata però ultimamente ad esempio vedo che la mattina non c'ho voglia voglio dormire un po' di più c'è il cambio di stagione, sto dormendo male una serie infinita di cose, sono più agitate eccetera quindi preferisco leggere la sera infatti la sera quando arrivo a casa cerco sempre di ritagliarmi un'oretta in cui leggere o magari mettere qualcosa di sottofondo e leggere o mentre cucino aspetto che le cose si preparino leggo insomma cerco di incastrare nei vari momenti della giornata poi magari in altre situazioni nel weekend, la domenica quando non sono lì che devo consegnare cose cerco sempre di leggere un pochino insomma è sempre una questione di incastri mi fa anche un'altra domanda che mi chiede hai in programma qualche fiera dell'editoria per quest'anno? ahimè no, non oltre quelle che ho già frequentato ovvero la Children che è sempre un appuntamento a cui io non manco mai o cerco di non mancare mai qui a Bologna, la Children Book Fair e invece sono stata al Play di Modena sabato scorso vorrei fare il salone mi piacerebbe molto ma no, lo devo fare per la mia salute mentale anche io purtroppo devo sempre un po' incastrare magari nella seconda metà dell'anno mi piacerebbe, c'è molto caso che succeda mi piacerebbe tornare a più libri più liberi a Roma l'unica cosa è che questo periodo per me cioè da aprile un po' inizierà il periodo dell'inferno dove il mio unico obiettivo è sopravvivere ovvero la stagione dei matrimoni che si somma al mio lavoro di tutti i giorni e che si somma anche al lavoro del canale e che, insomma e quindi devo prenderla con calma non posso morire anche perché penso che tra giugno e luglio io abbia una domenica libera just so you know Milena Books invece mi chiede quando hai aperto il canale oppure il profilo Instagram ti aspettavi di arrivare così lontano? sono sempre nello stesso luogo dove ero quando ho iniziato no scusate è una battuta brutta che non fa ridere però non lo so in che cosa si intende lontano diciamo che lontano sono altri numeri per me che lavoro nel marketing però diciamo sono molto soddisfatta di quelli che sono diciamo le cose raggiunte ma mi spiego meglio non in termini di numeri perché fondamentalmente non ho numeri abnormi o dei numeri molto contenuti cioè non sono nulla però non sono nemmeno numeri consistenti ma la cosa che mi dà più soddisfazione è che i miei video sono commentatissimi e con dei commenti davvero dei pippotti giganti questa cosa mi fa un sacco piacere perché vuol dire che un sacco di persone trovano al tempo la voglia e anche proprio si sentono stimolati probabilmente da quello che dico dai video che propongo e avere una media di 50 commenti a video per me è una soddisfazione incredibile ma perché alla fine a me interessa questo a me interessa conoscere persone che hanno voglia di parlare e fare comunità cioè parlare di cose scambiarci informazioni e soprattutto scambiarci pareri e argomentazioni a vicenda altrimenti non sarei qui ecco questa forse è la cosa che non mi aspettavo sono molto contenta che però succeda quotidianamente allora It's Julius mi chiede tra i libri che hai letto qual è il personaggio femminile in cui ti identifichi maggiormente questa è una domanda complessa nel senso che io ho sempre pensato che non ci sia un personaggio che parli di me o comunque che esprima qualcosa di mio devo dire che allora ho sempre detto che il mio spirit animal ovvero la mia non so proiezione astrale è sempre stata Elizabeth Bennet fin da quando la Lassie è in prima superiore perché trovo che in lei ci sia una parte sicuramente che non so se mi ha influenzato comunque è sempre stata una proiezione mia verso di lei ma perché Elizabeth Bennet è il personaggio che non accetta in alcun modo le convenzioni sociali le regole non riesce a non ribellarsi a queste cose e non riesce ad accettare che queste siano cose confezionate che lei debba passivamente che debba essere proiettate in un futuro dove non si riconosce eccetera eccetera e non si accontenta anche soprattutto di quello che potrebbe essere ciò che era la norma ciò che insomma era già stato stabilito per lei io mi ritrovo molto chiaramente in queste cose mi ritrovo nel senso proprio di irrequietezza nel senso di ribellione nel senso di rompere ogni cosa quando non va bene quando la percepiamo come sbagliata è un po' quasi più un'aspirazione io poi cerco di vivere davvero in questo modo cerco di non essere mai conforme a delle norme che non mi rappresentano o che non mi parlano o che trovo vecchie ci sono poi altri personaggi che ultimamente mi hanno un po' raccontato me stessa forse non ora cioè in parte anche sì ma non ora forse la me di un po' di tempo fa però sicuramente una di queste è Mia Corvere perché ha un modo di Nevernight di Jay Kristoff perché Mia riesce a essere una persona esteriormente praticamente glaciale impassibile quando dentro sta veramente morendo è soverchiata dalle proprie paure non sa gestirle fa una grande fatica e deve imparare a farlo e la sua crescita dentro il romanzo è proprio quello di imparare a dominare la paura e a conviverci e qualcosa che non sa fare che la blocca in tanti momenti eccetera e questo è una cosa nella quale io mi sono una dinamica che ho apprezzato perché mi ci sono rivista chiaramente e l'altra che forse è proprio è il mio alter ego letterario mi hanno detto così è zoia della trilogy che in realtà poi ora è in king of scars perché zoia è una persona prima di tutto casinara cacerona e io mi ci rivedo molto in questo modo di fare è una persona che dice sempre ciò che pensa e anche quando è scomodo e anche quando forse non è la cosa più conveniente da dire è un personaggio molto estroverso che comunque combatte qualcosa all'interno e soprattutto è un personaggio che si porta dietro una rabbia incontenibile ha una soprattutto è motivata dalla rabbia ed è una cosa che io proprio abbraccio a pieno io capisco quella rabbia e capisco quando la rabbia diventa non qualcosa di negativo quando questa rabbia diventa una sorta di benzina è quello che invece che rovinare tutto ti dà la spinta e l'energia per cambiare le cose e fare cose in maniera diversa io lo capisco è dura è difficile eccetera però zoia le voglio molto bene soprattutto perché capisco quella rabbia che lei prova che è una sensazione di cui nessuno parla perché la rabbia viene sempre associata solo a cose negative e invece la rabbia che viene da una parte negativa della nostra vita può anche trasformarsi in qualcosa di molto diverso e io lo comprendo Aurora RHS mi chiede qual è la tua opinione sulla notare i libri? io ho sempre detto magari anche per chi non sa se lo fosse perso che per me il libro è un oggetto ed è un oggetto che va vissuto dal lettore poi ognuno ha il proprio approccio c'è chi probabilmente potrebbe svenire io sono una che scrive annota sottolinea con la biro con il pennarello in Delevio mi frega proprio nulla ci sono libri che sono annotati in ogni singolo spazio bianco nella mia libreria perché è una cosa che mi piace fare i libri a me piace proprio viverli rovinarli ma non rovinarli nel senso sgualcirli però proprio toccarli maneggiarli averci a che fare perché trovo che acquistino sempre più significato white prophet mi chiede domanda un po' un po' shady secondo te la pratica di vendere libri avuti gratis dalle case editrici è giusta? eh chiaramente no personalmente penso che sia completamente scorretto nel senso che il libro della casa editrice è qualcosa che ti viene donato no? e spesso sono copie a ARC gli ARC ad esempio in booktube america booktube uk hanno un mercato che voi non potete capire a che prezzi arrivano alcune volte quelli molto ambiti però soprattutto trovo scorretto il fatto di rivendere libri che non ci sono piaciuti ma che noi abbiamo avuto gratis fondamentalmente in tanti casi però secondo me è anche un po' un problema di come viene impostata la collaborazione con la casa editrice nel senso ricevere migliaia 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 di libri che poi non ci piacciono non leggiamo non abbiamo il tempo di leggere è qualcosa di secondo me molto sciocco però lì sta più all'onestà del booktuber comunque del lettore e l'altra cosa che secondo me inceppa il meccanismo è che questo si potrebbe facilmente sistemare evitare di leggere libri che non ci piacciono o che non abbiamo il tempo di leggere prima impostare una collaborazione con la casa editrice dove forse siamo noi a chiedere a loro quali titoli ci possono interessare oppure ascoltare le loro proposte e accettare solo quelle che effettivamente ci interessano dall'altro lato anche il fatto che le case editrici pensino di poter mandare 100 titoli alla volta è folle ma questo nessuno ha il tempo di leggere tutte queste cose poi ci sta che magari ti arrivano dei titoli che hai richiesto tu o che ti sono stati mandati e ti interessavano moltissimo ti avevano venduto come bellissimi e poi a un certo punto ne sei rimasta delusa non ti è piaciuto eccetera eccetera quello è un altro paio di maniche però quei libri li si possono magari regalare a un amico o a un nemico e noi qui nel caso non piacciono però trovo che sia soprattutto all'onestà della persona che c'è dietro cioè io non venderei mai cose che ho ricevuto gratis nel senso che se le ho richieste io è ingiusto che io cerchi di spingere certe cose dall'altro lato questi sono libri che effettivamente stanno un po' all'onestà del youtuber si possono donare alla biblioteca donare a tutti i progetti di lettura delle varie città insomma possono fare tante cose con questi libri It's Camille Cecil ma questo è solo il primo di una serie infinita di commenti che riguardano questo tema i tatuaggi lei mi chiede se i disegni dei tatuaggi me li faccio io o li faccio fare al tatuatore bla 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 comunque ciao Rosaria te se ama adoro fa super ridere questa cosa e allora io personalmente ho deciso che questa cosa cioè allora fermo io odio parlare dei miei tatuaggi non so più come dirlo io detesto odio odio visceralmente parlare è una cosa invasiva per me io la percepisco come invasiva ma visto che è da quando ho aperto il canale che ricevo domande su domande su domande sui tatuaggi ho deciso che visto tutto il fastidio che io provo a rispondere almeno ci monetizzo sopra e quindi ho deciso che farò un video dedicato ai tatuaggi ai miei tatuaggi al modo in cui io mi rapporto ai tatuaggi e poi così finalmente tutte le volte che mi chiederete certe cose non ce l'ho con voi è solo che io capisco la curiosità dall'altra parte io provo un certo tipo di fastidio a farlo e quindi niente ci farò i soldi sopra quindi lo dovete vedere perché se no mi arrabbia un sacco sappiatelo White Blizzard la Francesca che saluto e vi ricordo di iscrivervi al suo canale perché è super brava e propone dei contenuti super interessanti quali tra i personaggi della Mast ti porteresti su un'isola deserta? questa è una domanda molto complessa primo perché bisogna valutare che cosa vuoi fare tu su questa isola deserta ci sono tante cose che si possono fare su un'isola deserta e probabilmente però visto il fastidio che provo per tutti gli altri io probabilmente mi vorrei portare nesta perché è l'unico personaggio della Mast che io rispetto nel senso che almeno è l'unica A che odia Fera B che ha un po' di personalità vaga però ce l'ha e in più secondo me io e lei ci faremo un sacco di risate in realtà poi litigheremo dopo cinque minuti però insomma almeno mi farei due risate l'altra che avrei voluto portare con me è Amren ma Amren non ha passato come tutti il varco di A Court of Wings and Ruin cioè dopo da quello che doveva sembrare un personaggio è diventata una roba immonda che non ha senso e quindi boh mi sarebbe piaciuto portare questi due ecco The Merry Secret Garden mi chiede città dove vorresti vivere oltre a Bologna allora io sono super attaccata alla mia città io sono innamorata di Bologna la trovo una città meravigliosa perché Bologna non so ha tanti difetti anche sicuramente però è una città non so che secondo me ha tantissimo da dare è una città dove arrivi in mezz'ora ovunque dove c'è tutto più o meno c'è un'attività culturale altissima c'è una proposta di eventi di vita incredibili c'è un sacco di opportunità anche lavorative c'è imprenditoria c'è tanto di buono a Bologna e quindi io non mi vorrei mai 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 spostare diciamo che se mai ci dovessero essere cose che succedono nella vita che noi non possiamo prevedere probabilmente mi piacerebbe andare a Roma anche se Roma ha il difetto fondamentale che è troppo grande è ingestibile stare a Roma però è una città che amo e mi piace tantissimo vado spessissimo per motivi familiari eccetera eccetera però insomma non so se ci andrei non so se lascerei bolo l'altra città dove io ho lasciato un pezzo di cuore è Brighton quindi probabilmente potrebbe essere un'alternativa una città sul mar una città inglese eccetera però devo dirvi che per quanto io ami molto queste due città non so se ci starei Len Shelf mi chiede come hai fatto a crescere il canale ti sei fatta pubblicità o hai puntato solo sulla qualità dei contenuti altra domanda che un po' mi destabilizza perché questa cosa della crescita del canale sembra che io abbia un canale da 100.000 iscritti siamo in 7.000 però detto ciò io no personalmente non mi sono mai fatta pubblicità nel senso che su YouTube è faticoso fare pubblicità diciamo che forse ci sono tutti quei metodi che io non ho mai adottato perché non me ne frega niente a me non è mai interessata la crescita e non so come dirvi è un po' forse è assurdo suonera strano però a me interessa creare community e il fatto forse è anche penso ho questa impressione la crescita del canale in questo anno che può sembrare molto per la community di BookTube anche se personalmente cioè vedendo in un'ottica più ampia c'è un canale da 7.000 iscritti è un canale minuscolo nel mondo di YouTube però insomma io ne vado molto orgogliosa di questi 7.000 iscritti probabilmente è dovuto a diversi fattori il primo è che io ho pubblicato veramente costantemente durante l'anno tranne in pochi momenti almeno due o tre video e sempre cercando ovviamente di curare e restituire dei contenuti validi poi non sempre è così però insomma mi sembra che le discussioni che si sono piano piano alimentate fossero molto sentite ecco e soprattutto secondo me è anche la questione della community cioè io non pubblico video per ignorare i commenti sotto o fregarmene perché voglio le visualizzazioni cioè a me soprattutto interessa parlare con le persone perché è il motivo per cui io faccio video e forse anche questo non so è stato percepito che per me fosse importante quello non ne ho idea non posso sapere perché non mi sono mai fatta pubblicità non trovo neanche un metodo così adatto perché le mille visualizzazioni non contano niente personalmente per me contano più i 50 commenti sotto ok Giulia Gauguin Spero di averlo pronunciato bene mi dice niente volevo solo dirti che ieri ho ordinato Six of Crows molto 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 bene la mia opera di rottura di balle sta effettivamente funzionando Evil Victoria mi chiede sei vegetariana vegana vorresti diventarlo no non sono né vegetariana né vegana non vorrei diventarlo perché I come from the land of tortellino e mortadella io non posso diventare vegana cioè ma ridere no a parte di scherzi è un discorso molto complesso fondamentalmente penso che personalmente tutto ciò che mi crea delle limitazioni mi fa crescere l'ansia è proprio uno dei motivi scatenanti no quando mi sento costretta in una cosa inizio a frullare col cervello e quindi anche avere la libertà di poter mangiare tutto mi fa sentire molto serena davvero d'estate io soffro spesso di ansia anche nervosa che mi stringe lo stomaco quindi mangio molto meno a volte mi dimentico addirittura di mangiare quindi non so come dire non voglio avere ansie sul cibo in nessun caso anche se vi devo dire che comunque contando che mio marito ad esempio non mangia alcun tipo di verdura io durante la settimana sono praticamente vegetariana perché cerco sempre di mangiare il più possibile vegetariano perché so che quando mangiamo ad esempio insieme la sera non è possibile l'opzione vegetariana allora poi mi chiede anche quali paesi hai visitato e quali ti sono piaciuti di più ne ho visitati un sacco mi dico semplicemente cosa mi è piaciuto di più mi sono innamorata della Turchia l'ho sempre detto secondo me Istanbul ma anche la Cappadocia cioè sono posti pazzeschi Istanbul è la città più bella dell'universo proprio bellissima si mangia bene vai ovunque vedi posti meravigliosi c'è un incontro culturale assurdo è bellissima è qualcosa di unico è così affascinante che vabbè io sono rimasta scema sono innamoratissima anche della Svezia ci ho girato per quasi un mese quando ero alle superiori e dal sud fino ad arrivare a stare parecchio a Stoccolma Stoccolma è bellissima in generale la Svezia è proprio bellissima Stoccolma è in generale l'altra città che mi è piaciuta moltissimo cosa ne pensi del plot armor perché quelle di Lord of the Ring sono accettate e quelle di Goth no allora il plot armor fondamentalmente è quella pratica di far andare avanti un personaggio un po' per inerzia perché se non va avanti il personaggio la trama muore no allora in Lord of the Ring sono accettate e quelle in Goth no perché in Goth è più dura nel senso adesso non sono dentro i fandom super specifici però in Lord of the Ring il fatto che Frodo non possa morire è un po' perché è la simbologia del personaggio dentro l'opera quindi troverai sciocco far morire Frodo non è quello lo scopo anche per il ruolo che ha Frodo dentro la storia poi non so se si riferiscono a quello in Game of Thrones vedo davvero molto dura questo plot armor no nel senso che ci sono pochissime persone che vanno avanti l'unico che è andato avanti fino alla fine cioè Jon Snow è morto poi è risorto e ora un po' più morì cioè questo è chiaro per chiunque vedrà la puntata lunedì e morirà insieme a me ok però non so dirvi perché sono accettata non seguendo i fandom non riesco a capirlo personalmente giudico nell'opera stessa e nel significato dell'opera stessa e del personaggio parasitnad99 mi chiede preferisci il signore degli anelli o il trono di spade trono di spade tutta la vita mi dispiace ma l'ho sempre detto io lord of the ring non so un trauma nel senso che ho fatto una fatica allucinante a leggerlo sicuramente gli riconosco tutti i valori sia letterari che tematici che comunque di costruzione tutto cioè è un'opera che forse non è neanche paragonabile chiaramente però personalmente preferisco Game of Thrones è esattamente quello che a me piace in una serie fantasy high fantasy ovvero un sacco di intrighi politici un sacco di personaggi interessanti fighi con una trama e che è sempre in evoluzione in movimento quindi per quello chiacchia rascona invece mi chiede Nina o Inej allora personalmente voglio bene a tutte e due ma preferisco Inej allora Anna Ebe mi chiede invece come lettrice che consigli daresti ad un'aspirante scrittrice cosa che dinamiche vorresti leggere allora personalmente cioè dipende sempre anche che cosa si sta scrivendo io penso sempre che uno scrittore soprattutto di fantastico nella connotazione più ampia che questo termine può avere deve innanzitutto avere in mente molto chiaramente qual è lo scopo di tutta la narrazione cioè qual è il messaggio il tema che vuole trasmettere e nel farlo deve riuscire a trovare il modo di esprimerlo anche nell'esecuzione perché se c'è solo un'intenzione ma non c'è una vera e propria espressione è chiaramente il metodo più sbagliato per trasmettere il messaggio più personalmente penso sempre che gran parte del lavoro in queste cose lo fanno non solo l'ambientazione le dinamiche varie ma anche i personaggi e ciò che esprimono i personaggi e i personaggi devono essere realistici devono essere dei personaggi che tendono ad esprimere come nella vita reale noi possiamo in un mondo fantastico che quindi è più universale fare certi percorsi e ricordatevi sempre che i personaggi non vanno da A a B cioè il percorso del personaggio non può essere una strada sola che qualsiasi cosa accade l'obiettivo rimane sempre il medesimo e la strada il metodo rimane sempre il medesimo non è possibile non è così che funziona nella vita reale ma come in una storia credibile il personaggio va da A a B ma in mezzo ci sono tutte le lettere dell'alfabeto ecco cioè bisogna cambiare riadattarsi trovare nuove prospettive magari modificare le proprie priorità magari modificare addirittura l'obiettivo finale a meno che non sia un obiettivo altissimo però bisogna che il personaggio esprima soprattutto questo io penso che già riuscire ad avere in mente queste cose sia già avere metà del lavoro fatto per gli scrittori che non scrivono fantasy secondo me è la cosa più difficile probabilmente trovare una propria voce un proprio messaggio e la maniera nella quale poter raccontare delle storie che esprimono quello che si vuole dire e nel modo in cui lo si vuole dire allora poi abbiamo un po' di domande sempre Camille mi chiede eri una ginnasta di artistica o di ritmica artistica e sei wiccan pagana o praticante di esoterismo no io sono completamente atea cioè dal primo all'ultimo cellula del mio corpo Arianna Agnassio mi chiede film preferito il mio film preferito fa molto ridere tutti però è tutti insieme appassionatamente non ci posso fare niente allora Sofia Lodig mi chiede qual è stato il matrimonio più figo a cui hai partecipato escluso il tuo non lo posso dire dai questa è una questione di lavoro non si dice ne ho fatti tanti di figli e questo mi rende super orgogliosa delle mie coppie allora Chiara Barla Xena mi scrive ciao Tiffany conosci la serie tv girls se si cosa ne pensi si la conosco il mio problema è che ha messo sulle balle Elena Dunham non ci posso fare niente la trovo una persona che usa il femminismo i temi del femminismo per alcune cose anche in maniera giusta ma che poi si trincerà dietro il femminismo total white cioè dove viene escluso tutta l'intersezionalità la rappresentazione di storie di minoranze eccetera e troppo spesso fa veramente dice cose veramente imbarazzanti quindi girls non mi è dispiaciuto però non me ne cioè non voglio sostenerlo più di tanto per alcune cose per alcune altre tematiche super super interessante super figa come serie per tante cose secondo me ogni tanto scade in stereotype che io voglio eliminare trapne mi chiede una domanda bella complicata sei soddisfatta della tua vita oggi prenditi qualche secondo per pensarti grazie intanto allora sì io lo dico sempre io mi sento una persona molto felice e detto così nonostante tutte le difficoltà perché penso di essere molto fortunata nel senso che io ho passato veramente dei periodi pesantissimi per dire in maniera carina eppure ora nonostante tutto ho una famiglia vicino a me che mi vuole un sacco bene e con la quale io vado molto d'accordo in questo momento un marito che amo tantissimo due gatti bellissimi ho un lavoro che credo davvero di essere fortunata perché faccio il lavoro che amo e non credo tanti abbiano la mia stessa fortuna faccio non solo il lavoro che amo ma che mi stimola tantissimo sia che sia il lavoro in pubblicità che quello dello studio e quindi insomma sì mi ritengo molto fortunata insomma e anche grazie a booktube ho ripreso una parte della mia vita che avevo seppellito ovvero la parte dedicata alla lettura e quindi non so sono contenta sono felice e soddisfatta cosa che se ci penso sette otto anni fa non avrei mai potuto dire la stessa cosa cioè non sapevo neanche se sarei arrivata qui ecco diciamola così small angry reader mi chiede qual è il libro peggiore che ti ricordi di aver letto il primo che ti viene in mente questa è difficile penso cioè adesso il primo che mi viene in mente è tre metri sopra il cielo perché ne stavo parlando di recente io mi ricordo eh non lo so non mi viene in mente altro fatta al quiete mi chiede quali sono i tuoi film preferiti allora vabbè il mio film preferito ve l'ho detto prima però in realtà sono una grande appassionata di cose un po' insomma anni 90 classiche train spotting fight club raking for a dream tra i miei film preferiti sicuramente ci metto anche another earth ci metto lasciami entrare danno di lui mal ci metto sicuramente blade runner ci metto insomma ci sono tante cose alle quali sono molto legata star wars ovviamente la trilogia che però esula quasi dall'essere un film per me è qualcosa di più trascendentale lilly r mi chiede se c'è un posto dei sogni dove ti piacerebbe andare allora io ho due mete dove sogno fin da piccola di andare non ci sono ancora potuta andare il primo è san pietroburgo comunque in generale la russia e l'altro è il giappone e entrambe un po' per questioni anche economiche un po' anche per insomma un po' complesso organizzare un viaggio del genere ci vuole molto tempo che io non ho mai Brian Diro mi chiede ne hai già parlato in passato ma urgono aggiornamenti scriverai mai qualcosa? no ragazzi io non so scrivere non sono in grado io sono solo brava a rovinare la scrittura degli altri ma non sono proprio in grado di scrivere ho tante idee ripeto quello che ho sempre detto tante idee ma non riuscirei proprio a esprimerle poi sono brava a fare altro insomma è giusto che chi voglia scrivere scriva Giorgia Ferroa mi chiede non so chi sia la massa non conosco i suoi libri perché non dovrei leggere nulla di suo no per me potete leggerla tranquillamente io ve lo sconsiglio nel senso che io spero che voi leggiate di meglio per tre motivi fondamentali il primo è la questione delle problematiche all'interno del libro ci sono veramente cose romanticizzate fatte passare come positive c'è del controllo mentale c'è dell'aggressività ci sono tutte queste cose che secondo me vengono molto romanticizzate e no secondo è perché non sa scrivere ha dei problemi giganteschi di scritture ha una scrittura molto che io definirei di controllo emotivo cioè lei ti dice cosa provare invece che darti gli strumenti per decidere e in più ho proprio dei problemi di scrittura vabbè ma quello è un altro discorso l'ultimo è che se c'è un messaggio interno al libro si contraddice continuamente quindi arrivi io il secondo l'ho apprezzato cioè sono una di quelle che si è rivista in questo messaggio per questioni personali ma poi viene completamente buttato nel bidone nel libro dopo e si contraddice dice addirittura cose che proprio eliminano il senso dei suoi libri però l'ho già detto mille volte se a voi è piaciuto ovviamente leggetelo e continuate a leggerlo e a supportarlo ci sono tante persone che la amano per invece proprio magari motivi che a me danno fastidio però fate un po' quello che credete datele una possibilità ecco non si nega mai nulla a nessuno tranne ai fascisti luna e verte chiede quali libri consideri guilty pleasure cioè trash che non puoi fare a meno di leggere wow no allora devo dire i miei guilty pleasures sono diversi nel senso che a volte mi piacciono a me piace leggere anche un po' di trash e robe così devo dire che a me le cose per cui effettivamente un po' mi sento non so i miei guilty pleasures sono dei dei contemporary che hanno a che fare con delle ragazze molto giovani di etnia differente cioè sono quei tipi di narrazione quando anche romance quando anche parla di queste cose che a me fondamentalmente piace leggere perché almeno non è il classico romance pipotto oppure le classiche robe lui è ricchissimo e sono povera quindi sono beh beh a me non interessa quella roba lì però devo dirvi che invece quando si tratta di questo tipo di narrazione io divento un po' carica cioè ho voglia di leggerli ecco Bookful Chizza mi chiede una cosa domanda banale come stai? sono stanca stanca e sono già stanca e infatti aprile me lo voglio prendere proprio un po' più di relax anche perché mi devo togliere tra i denti del giudizio ho passato mesi abbastanza intensi quindi insomma voglio prendermi aprile un po' per tornare a respirare ecco Nocturna Blaze saluto mi chiede come sei voluto il tuo stile nell'abbigliamento e hai avuto una fase emo imbarazzante sicuramente ho avuto tante fasi imbarazzanti diciamo che se ne ho passate tante ero molto più legata allo stile pin up una volta anche emo in certe fa emo nel senso non esagerato però manca un po' emo in certe fasi e poi c'è comunque un po' total black dai vent'anni in poi o comunque tendente a un certo tipo di cose adesso ultimamente mi sto proprio allargando nelle forme diciamo che tutte le cose un po' strette mi danno fastidio oggi penso sia la prima volta che metto una roba un po' aderente ma sono almeno tre anni che proprio le cose strette mi danno fastidio però sì non ho grandi documentazioni di questa cosa diciamo Kamika Pecchi mi chiede come hai iniziato il tuo percorso nell'ambito lavorativo allora in generale o in quello che sto facendo domanda vabbè vi parlo di quello che sto facendo ora perché sennò dobbiamo andare nei regiologici precedenti io feci un corso della regione dopo l'università di grafica multimediale comunicazione marketing perché io non ho mai studiato marketing e quel corso mi illuminò cioè capì che io pensavo di voler fare grafica soprattutto ma in realtà capì che io sono molto portata per la comunicazione in generale poi feci uno stage poi lavorai per un'azienda poi approdai in quella che è la mia attuale agenzia collaborando anche con altre agenzie prime insomma una serie di diverse cose che alla fine mi hanno fatto capire ah che questo è proprio il mio cioè è una cosa che mi stimola mi piace mi diverte e che sono anche portata per queste cose e dall'altro lato devo dire un po' un po' il caso anche incontrare tante persone giuste quella è una cosa che comunque non va mai messa in secondo piano perché persone giuste nel senso quelle che ti dicono guarda che questa cosa la sai fare guarda che probabilmente non l'avevi mai considerata ma io ci proverei io mi butterei lì oppure persone anche proprio che ti danno un'opportunità cosa che a me è capitata e ripeto io mi sento fortunatissima area94 mi chiede in un video dicesti che non ami libri della Troisi come mai? allora per me la Troisi ha diversi problemi nella sua narrazione il primo sono gli stereotipi dei personaggi cioè i suoi personaggi per me risultano insopportabili da quanto sono delle macchiette e quindi quello a me calcolate che io leggo i libri per leggere dei personaggi e quindi a me diede un sacco fastidio da sempre quindi è vero che lei ha iniziato al fantasy tantissime persone però secondo me non è una brava scrittrice è una brava traghettatrice che è un'altra cosa l'altra cosa che le dinamiche all'interno delle sue narrazioni spesso sono cose che negli anni sono un po' viste già viste eccetera in altre cose molto innovativa ecco mi sento di bocciarla tutto anzi secondo me lei dei pregi come quello davvero di aver portato tante persone ad avvicinarsi fantasy finisce lì ma perché mi chiedete tutti di Sarah J. Massimo veramente sono allucinata vorrei sapere la tua opinione sui suoi libri ma ci ho girato video e video e video e video a riguardo anche is it fate or chaos mi chiede quando e come hai iniziato a capire che è importante lottare per l'uguaglianza allora non so sono tante cose fondamentalmente c'è sempre stata una cosa che io ho avuto in mente ci vengo da una famiglia veramente super umile di condizione sociale abbastanza bassa finché non hai l'età della consapevolezza è difficile capire per me è stato abbastanza precoce capire certe dinamiche del mondo nel senso che purtroppo è vero che sulla carta tutti abbiamo le stesse opportunità e tutti abbiamo le stesse possibilità di accedere alle cose ma non è così non è vero in tanti ambiti magari sì in tanti altri è falso c'è chi parte privilegiato e quindi avendo questa cosa in testa ma sapendo anche sempre non so come dire da un lato ci sono modi per poter riscattarsi per poter non so proseguire nella propria strada e trovare anche il modo di migliorare le proprie condizioni ci sono però è dura è difficile e se per qualcuno sarà un processo molto facile per chi proviene dal basso non lo sarà mai e come questa cosa l'ho vissuta io che sono bianca sono eterosessuale ho davvero veramente tante fortune ok e sono già svantaggiata di mio spesso vedo che tante difficoltà che succedono soprattutto andando avanti nel mondo sono successe a me che ho certi diritti e ho certe opportunità quando succedono a persone che non hanno diritti a persone che vengono considerate dei subumani vengono disumanizzate completamente continuamente cioè a me non mi fa dormire la notte è proprio sto male ed era arrivata a un punto in cui ci stavo così male e non potevo più ignorare questa cosa nella mia testa che ho iniziato a cercare di smuovere qualcosa come lo posso smuovere parlandone sui social perché è il modo più diretto cercando nella mia vita di tutti i giorni di fare cose ho sempre visto che la solidarietà in tanti casi c'è proprio dove c'è più difficoltà dove ci sono meno soldi meno opportunità meno cioè proprio banalmente cibo ok ma è tutto cibo che si divide tutto cibo che si presta tutto spazio che si condivide e se facessero la stessa cosa persone che hanno molte più possibilità probabilmente ci sarebbero meno conflitti sociali meno guerre tra poveri perché fondamentalmente dobbiamo sempre tenere a mente che chi è più povero di noi è solo più sfortunato e non dobbiamo combattere chi ha meno di noi dobbiamo tendenzialmente cercare di redistribuire la ricchezza e redistribuire certe cose almeno questo è quello che io penso e quindi non so cioè sono arrivata a un punto dove veramente ci stavo troppo male la notte non ci dormivo e avere anche aperto un canale mi ha dato proprio l'opportunità anche di ampliare quelli che sono i miei discorsi poi è complesso perché comunque esporsi su internet parlando di certe tematiche non porta quasi mai a delle reazioni positive o comunque si ha paura della reazione negativa e io ne ho tanta ogni volta che parlo di certe cose ma devo dire che il calore e la percezione positiva che ho in certi momenti è molto più alta rispetto alla negatività e quindi sti cazzi cioè se non lo fa nessuno non lo farà mai nessuno bisogna buttarsi Adele Maria 79 mi chiede da quanto suoni la batteria? Suono la batteria da 5 anni quindi da poco relativamente però mi ero sempre detta proprio prima di diventare vecchia e incapace devo imparare a suonare Mary Wendy mi chiede non so se ne hai mai parlato ma come hai deciso di parlare di libri e musica su YouTube? Non so era quello di cui volevo parlare del quale non parlavo quasi mai fuori da casa e quindi non so YouTube era il modo ideale ecco Icor Verpe spero si pronunci così vorrei sapere dei tuoi amici da gattara quale sono ogni volta che li vedo comparire mi sciolgo allora io ho due amici ne ho tanti nel senso io ne ho due a casa che adesso ve li prendo stava dormendo quindi sarà super rinco lei è Pini cioè in realtà si chiama Maria Antonietta ma in casa nessuno la chiama Maria Antonietta amore ed è la mia bambina piccola proprio la mia bambina ora sembra morta va bene l'andiamo a rimettere a posto e lui è Pupi ovvero Edgar che però tutti chiamiamo Pupi ora ti lascio andare perché lui invece si agita in braccio ovviamente già fiera del pelo pessima idea e niente sono loro sono proprio i miei due gatti di casa poi spesso sono dei miei quindi su Instagram se mi seguite ne vedete tanti altri di gatti e quelli sono i gatti dei miei loro due invece sono i miei bambini lungo la via del lettore mi chiede mi piacerebbe sapere di più sul tuo percorso di laurea e sulla tua tesi allora al mio percorso di laurea io ho studiato lettere moderne ma non mi sono laureata all'ultimo esame con la tesi scritta lo dico sempre così conforterò tutti quelli che hanno problemi universitari e nonostante questo io sono andata avanti nella vita è stato difficile vorrei girarci anche un video perché so che molti mi chiedono questa cosa però devo ancora capire se sono abbastanza pronta per parlarne la mia tesi era in filologia della letteratura italiana era su Xenia di Montale e niente quindi fondamentalmente la ricostruzione testuale di tutto Xenia e in particolare ovviamente di una delle mie poesie preferite che era ho sceso dandoti il braccio allora sempre riguarda questa cosa ti sei mai ti ha mai dato fastidio vedere i tuoi amici che si laureavano ti sei mai sentita indietro o incompleta questa è una domanda orribile allora diciamo che non è che mi dava fastidio ovviamente anzi io sono sempre stata la più felice per gli amici che si sono tutti laureati e ho fatto le foto a tutte le lauree ho partecipato a tutte le feste possibili immaginabili e diciamo che ovviamente mi faceva sentire mi richiamava sempre il fatto che a me non fosse capitato ecco o io non l'avessi non fossi riuscita a finire l'università però sinceramente otto anni dopo sette anni dopo la vita è andata avanti e alla grande anche allora del lady reading in the non vedo tutto il nick mi chiede cartoni preferiti da piccola cioè quelli in tv i miei cartoni preferiti da piccola erano una porta socchiusa che non mi ricordo come si chiama il cartone però io lo amavo ero ossessionata l'altro cartone che amavo era pollon e anche occhi di gatto mi piaceva moltissimo l'incantevole crimi e odiavo io ve lo giuro lo odiavo e piaceva a tutti ma io lo odiavo rossana è una cosa assurda io lo odiavo invece tipo film della disney io non sono mai stata una grande fan della disney in generale mi piacevano tantissimo hercules aladin e mulan però devo dire che io non guardavo molto la disney guardavo più altre cose matteo il mara marastoni mi chiede indietro marcia la tua prima campagna di sensibilizzazione hai avuto altre esperienze in maniera così diretta si è la mia cioè proprio dove abbiamo costruito tutto da zero noi gruppo di specialisti della comunicazione cioè amici che si sono trovati in un baretto disperati sì proprio da così proprio da lanciare tutto da zero sicuramente è la prima esperienza se non sapete cos'è indietro March vi rimando un po' di link giù e alle mie stories di instagram però avevo già partecipato a diverse altre campagne di sensibilizzazione per lavoro e quello è un altro paio di maniche però questo è stato ovviamente un grande orgoglio personale allora julingr mi chiede se non è una domanda troppo personale quali sono i tuoi libri di riferimento nella vita penso di averne già parlato in tutte le salse la nausea di sartre la luna e i falò di pavese camere separate di tondelli poi ci mettiamo anche una questione privata di fenoglio ah e ci metto sicuramente le notti bianche di Dostoievski Giorgia Trinca mi chiede come è stato il tuo matrimonio bellissimo ci siamo divertiti un sacco ed è stato esattamente come io volevo cioè tutto tranne che un matrimonio tradizionale Clary Claire mi chiede come si recensisce ovvero quale processo segui nell'analizzare un testo questa è una domanda molto difficile e magari ne parlerò in un video dedicato perché è un argomento bello complesso e in tanti mi chiedete spesso cosa posso fare per migliorare l'approccio critico eccetera non so neanche se sono la persona giusta nel farlo però magari vi dico cosa faccio io però devo avere il tempo per farlo sennò diventa enorme sto Q&A allora come acquisti libri e cosa ti spinge a scegliere un testo piuttosto che un altro in realtà fondamentalmente è il caso l'ispirazione magari è un autore che seguo molto e che non vedo l'ora di leggere poi comunque mi informo moltissimo su Goodreads cerco di reperire un po' di recensioni se sono titoli nuovi invece magari capisco anche un po' che cosa possono essere ecco allora poi mi chiede anche perché pensi che il booktuber in Italia non sia una figura professionale affermata beh non è che nel mondo ce ne siano molti di booktuber affermati diciamo che in Italia c'è sempre questa paura dell'internet che nessuno capisce nessuno conosce ma bisogna averne paura bisogna screditarlo il booktuber è uno strumento molto interessante sia dal punto di vista di marketing quindi della promozione ma anche da tanti altri punti di vista da supporto eccetera secondo me piano piano si sta un po' aprendo questa cosa bisogna avere un approccio ancora più incisivo da parte sia delle case editrici che degli eventi che tante altre opportunità che potrebbero avere i booktuber o che potrebbero sfruttare i booktuber però in Italia siamo sempre 25 anni dopo quindi allora balla sulle nuvole ma non è l'unica mi chiede qualche curiosità su Mr. Fiction allora questa è una domanda un po' imbarazzante primo perché Mr. Fiction ci tiene moltissimo alla sua privacy e quindi io cerco di rispettarla comunque insomma è un caro ragazzo gli voglio un sacco bene ci amiamo tanto stiamo insieme da un sacco stiamo insieme così da 9 anni viviamo insieme da 8 so è molto molto carino è simpatico e condividiamo un sacco di passioni non la lettura ah poi infatti Cristi 172 mi chiede come hai conosciuto tuo marito cosa rappresenta il matrimonio per te oddio questa domanda è molto difficile il matrimonio è tante cose molto personali anche però come ho conosciuto mio marito l'ho conosciuto in realtà moltissimi anni prima che ci mettessimo insieme perché lui organizzava degli eventi musicali dei concerti eccetera e quindi insomma spesso io partecipavo ovviamente ero una giovane sedicenne Miss Fiction e quindi insomma ci andavo e l'ho conosciuto lì ecco GTM Concita mi chiede che tipo eri al liceo io al liceo ero odiosa odiavo tutti non parlavo molto aggressiva nei modi avevo solo il mio gruppo di amiche e di amici e quello era e basta il resto odiavo tutto mi sentivo intellettualmente superiore a qualsiasi cosa ero arrabbiata tutto il tempo però avevo anche magari prima voglia di fare cose ero un po' anche artistoide ai tempi avevo capito che mi piaceva la fotografia sperimentavo così andavo molto bene a scuola mi piaceva tantissimo fate conto che io alle superiori ho fatto cinque giorni di assenza in cinque anni queen of the sekia nonché queen del sistema immunitario e boh poco altro però insomma era per me sono stati anni comunque divertenti nonostante queste cose che sembrano folli moonstruckjules mi chiede il tuo pensiero circa il consumismo di booktube america allora devo dire che è una polimica che io fatico a capire nel senso che booktube america a me non piace seguo pochissime persone che trovo valide ma che non rappresentano booktube in america e la storia del consumismo fondamentalmente secondo me è una paura di non avere delle librerie adeguate cioè fondamentalmente secondo me cioè vabbè io ho la libreria che è comoda è nell'unico spazio dove posso registrare quindi ho questa disposizione ma se io anche mi mettessi su una sedia a parlare di libri sarebbe esattamente la stessa cosa e loro hanno invece quest'ansia di dover apparire con queste librerie giganti se no non sei abbastanza lettore non vai bene per booktube boh cioè lo trovo veramente stupido Cindy che è la mia booktuber preferita del cuore della vita read with Cindy ha quattro libri cioè e comunque ha molte più argomentazioni di chi ne ha mille Octavia Stoker Crow mi chiede band preferite la mia band preferita sono gli Smashing Pumpkins sono anche i Ramones e in generale random direi i Cramps i Clash direi sicuramente gli Arctic Monkeys direi anche i Block Party cosa mi sto dire a Six and the Banshee allora Anna Ebe mi chiede l'ultima domanda di oggi che è c'è qualche saga fantasy che magari anche perché è vecchia meriterebbe molto più fanbase su YouTube secondo me ci sono tante saghe vecchie molto molto valide e vorrei farci un video anche qua a riguardo quindi ve ne vorrei parlare con calma però c'è un po' di fantasy storico femminile anche spesso in tantissimi casi che secondo me nessuno si calcola molto ora ma perché effettivamente è una generazione un po' passata e che in qualche modo però ha dato il via a un grosso approccio dello young adult per quanto mi riguarda e cosa penso io e quindi insomma magari ne parlerò più nel dettaglio perché secondo me è una bellissima domanda ed è un argomento che merita e quindi stay tuned forse nel 2020 facciamo sto video niente non sono riuscita a farle tutte perché devo andare dal dentista fra mezz'ora quindi ora devo telare e niente io vi ringrazio perché siete stati carissimi a mandarmi tutte queste belle domande spero che il video sia risultato interessante comunque insomma ci sarà un next round e se volete farmi ulteriori domande o comunque potete anche scrivermi qua sotto il video e cercherò di rispondere a tutti come sempre io vi ringrazio perché siete sempre i più belli i più attenti i più interessanti e questa è una cosa della quale io vado molto orgogliosa e niente io come sempre vi ringrazio spero di avervi tenuto compagnia e direi che ci vediamo al prossimo video ciao ciao